la festa del papà si avvicina e volevo proporvi un regalo che sia una cosa un po' diversa e una novità un'alternativa ai soliti regali che si fanno alla festa del papà e volevo parlarvi di un'esclusiva che abbiamo introdotto da poco con una casa svizzera molto blasonata e conosciuta abbiamo questa esclusiva perché è una casa che produce articoli totalmente naturali vegani e sta molto attento alle materie prime allora di che cosa stiamo parlando adesso vi faccio vedere nel dettaglio parliamo della motes la motes è un'azienda svizzera appunto come vi dicevo che produce articoli da barba e allora vi do una piccola panoramica di quello che abbiamo che poi potete vedere tranquillamente sul nostro sito internet lubidi.it allora questo per esempio è uno shampoo per mettere sulla barba questo è un balsamo per levigare un pochino la barba e nutrire la palle sotto poi abbiamo gli oli servono per illuminare la barba un after shave vaschetta per mettere il sapone da barba e montarlo la spazzola per pettinare la barba logicamente pennello e rasoio volevo spendere una parola sui rasoi perché sono si chiamano rasoi di sicurezza praticamente hanno la monolama e il rasoio di sicurezza serve appunto per non tagliarli uno pensa che con una lama sola la barba non venga tagliata molto bene invece assolutamente sfatiamo questo mito anzi non vi irrita la pelle perché con due o tre lame che vanno di moda oggi si rischia di stressare troppo la pelle e questo per esempio è in olivo questo è in acciaio e questo è il legno di ebbano e non sono di tasso ma sono tutti sintetici perché ripeto questa casa non tratta non tratta prodotti animali vi aspetto al mio negozio o se no potete acquistarli anche online un saluto a tutti ciao grazie a tutti grazie a tutti